Cari ospiti, buongiorno a tutti, mi presento, sono Elisa, la figlia dei proprietari dell'hotel Fingiana di Marazze, che ormai da 93 anni a questa parte, come ben sapete, siamo proprietari di questo meraviglioso hotel di Charme, di Guilla Michelin, ancora una volta anche quest'anno un locus a meno di Guilla Michelin 2013 e un certificato di eccellenza TripAdvisor. In primo luogo vorrei salutare i nostri amatissimi e ormai fidelissimi clienti e soprattutto salutare i nuovi clienti che spero abbiano desiderio di soggiornare nel nostro hotel. Ringrazio prima di tutto tutti i nostri ospiti che ci seguono sul nostro profilo Facebook che giornalmente aggiorniamo con le foto in anteprima in real time della giornata, foto dei nostri eventi, delle nostre offerte e proprio sulle offerte io vorrei proporvi questa meravigliosa e imperdibile offerta della settimana di Pasqua ad un prezzo davvero speciale di 75 euro a testa al giorno in pensione completa, escluso le bevande, quindi una colazione a buffet molto grande alla mattina, il pranzo c'è una scelta con tre primi, tre secondi e clienti lo sapete quante cose buone offriamo e un sabato sera come serata gourmet e soprattutto importantissimo il pranzo di Pasqua. Per cui non mi resta che salutarvi e aspettarvi per la vacanza di Pasqua e seguiteci sul nostro profilo Facebook. Un grande bacio a tutti, Elisa!